Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale, sono Backperodity. Oggi è uscita la ballista, bene, analizziamola velocemente. Allora, nelle proibite abbiamo Ororeal, Paul Cusestra. Sono contento. Cominciamo bene, sono molto molto contento. Sì, in vigore dal 21, quindi è uscita la 17 e entrerà in vigore nel 20, sono al PC. Poi abbiamo Colosso, Drago del Tuono, proibito. Madonna, no, 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 Konami cosa hai fatto? Ragazzi, mi è morto il Thunderdrago. Lacrime, lacrime, lacrime. Non dico altro. Pure Electro, maestro. Olè, proprio mi hanno azercato quello che volevo giocare. Quello Magician. Anche Ibb. E la madonna, che cazzo hanno colmiato con questa ballista? Cioè, andava a cerciare qualsiasi Magiotrappola, War Chalice. Ma con delle Tempeste ci sapeva. Oh madonna, sto pensando a Colosso. No, no, no. Aiutatemi, cioè, cos'è sta cosa? Cioè, io devo giocare in Teodigano. Mamma. Beh, il mazzo non è morto, però... Da 3 a 0 è tanto. Troppo, secondo me è troppo. Uno ci sarebbe stato mazzero, addirittura, ragazzi. Questo è il marketing, questo è il marketing del cazzo di Konami. Deve vendere i nuovi mazzi. Ovvio. Azatot e Staglio Miraggio Pannati. Oh mio Dio. Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Salamagna non può più mandare. Salamagna non può più rimanzare mostri all'extra. Azatot, bye bye. Si sapeva di Azatot. Oh madonna, Salamagna. Tanto, raga, ma che cos'è? Fusore brillante, non ce l'avevo a cazzo. INGAGIARE PREMITO! Allora. Meno male che non mi sono comprato Sky Stryker qualche giorno fa. C'è da piangere sangue. INGAGIARE A ZERO. Boom, così. È un moto Sky Stryker, ragazzi. Completamente. Quasi morto. Continuiamo. Trappole non c'è niente di nuovo. Quindi. Insomma. Un'essi limitata. Ci sta. Banca Tops limitato. Ma che cos'è? Oh madonna. Konami che sto combinando. Cos'è? 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 Siamo passate limitate, raga. Scusate. Oh mio dio. Oh mio dio. Servitore di Ninon. No! 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 È veramente esagerata Saballis. Troppo, ma troppo, troppo, troppo. Troppi hit tutti insieme Troppi Servitori a uno Porca roia Vabbè c'è anche Una carta Entrata dalla ballis Che è un altro di È un vero re Non mi ricordo che carta è Andiamo subito a vedere Ah ok È un true king È tornato a uno Buono buono Mi piace Almeno questa Mi piace Possiamo continuare col dolore Possiamo continuare col dolore Purtroppo il sito È veramente pieno di gente Quindi potete ben immaginare Quanto sia complicato Vedere la ballis Dovamo anche ricaricare la pagina Continuando ad analizzare Le carte limitate Troviamo 4 rubri O uno Ok Non è niente da niente Non la uso Quindi non mi tocca Però Sono ancora in pensiero Per il mio colosso Diagramma draconico a uno Ok Finalmente Un hit giusto Un hit giusto Finalmente 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 Ok A parte colosso Beh Colosso e ingaggiare È sostanzialmente un'esagerazione Troppo 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 In televoid a uno Wow Ma cosa cazzo l'ho combinato con i peschini Cosa stanno combinando con i peschini Grata la varizia a uno Da proibita Ok Va bene Giusto per venderla Assolutamente Luce di secca limitata Ciao Miato Andiamo Al limitato Le via rosso Ma Konami Ma i mazzi control Vi piacciono così tanto No Ditemi voi perché La via rosso Era l'unico modo Per fronteggiare Alter guys E molti altri mazzi Trappolosi Grazie Bella merda Complimenti Ehm Controlamento a due Guidatura a due No vabbè Non ci voglio credere Basta Non ci voglio credere Veramente Bella Di vedere mare profondo A due E basta Queste sono le semilimitate Andiamo alle scarcerate Oh madonna Ho visto una cosa Che non volevo vedere Vabbè Il dadda 3 Non c'è fiega niente De bagginella Tornata Va bene Salamani potrà giocare Ancora Un po' Però Senza starne un miraggio Perde un po' Di consistenza Ehm Giard la mutazione Da proibita A tre Oh mio Fottuto dio Cosa state combinando Cosa state combinando Cosa state combinando Se si sapeva che tornava A tre Vigo si infetta Il tribù A tre Va bene La proibita Diciamo che Non farà molti danni Però Vediamo Una kagari A tre Perché Metodo Engage Perché Kagari A tre Me lo spieghi Gara Konami Cosa concludo Contra Kagari Che mi toglie Anche spazio In extra Togliendomi Incaggiare Ok Gli engine Sono morti Però Anche il mazzo Non capisco Il lit Ad engage Droglia Zero Qualche Altra Carta Boh Ma Incaggiare No Incaggiare A due Massimo A zero Oh Che tanto Troppo Libro Della Luna A tre Ragazzi Giocate Antimeta Giocate Antimeta Lancio Alzarango Magico Dei Cavalieri Fantasma Va proibita A tre Meccaniche X Nuove Ho paura Molta Molta Paura Ragazzi Sono in lutto Avertimento Solenne Torna a tre Dalla Imitata Abbiamo tutti I solenne Sbloccati Io Non voglio Dire Però Ragazzi Giocate Antimeta Giocate Antimeta Non è possibile E' uno schifo Del genere Risucchele L'anima Tre Vabbè Cercavo Fare Però Dai No No Non si può Non si può Non si può Non si può Cos'è Sto schifo C'è Io Devo Comprarmi Tre Mistake La trappola Che non fa Dare Minimo Comprarmi Antispev Comprarmi Atleta De cosecca Comprarmi Un bottero Per sostituire Colossu Grazie Colossu Non ti vedrò Mai più Purtroppo Forse A 1 Tornerà Ma Fortunatamente Non ho colpito Nel main Deck Io avevo poco Deva fusione A 1 Visto Colossu A 0 Una fusione A 1 Ciao Mi ha ammazzato Completamente Il mazzo Adesso Titano Bisogna sudarselo Parecchio Anche Bisogna sudarselo Per farlo E Skystrike RIP RIP Proprio Demise A 1 Ingege A 0 Dai No Cadere A 3 Non ha senso Cagare a 3 E' una trollata In questo caso Perché Ti prende per il culo A Konami Ti prende per il culo Cagare a 0 E mi torna a cagare No No Ok Per restare Però Cosa mi resto Se non engage Pesco ancora Devo pescare Le carte Adesso Per giocare Non fa più 1 Allora Skystrike Meritava unita Engage Ma non a 0 Ok Che pesca 1 E pesca un'altra Perché Effetto di 3 magie Cimitero Cagare A 3 Dove va Ci sta Perché Devi riciclare Il motore Le tue magie Perché Se no È la fine Però Però almeno Ancora 2 Potevi metterla Ma la 1 Ancora 2 La dovevi metterla Se vuoi far giocare Il mazzo Dovevi metterla a 2 Non ho parola Non ho parola Io non sono molto fan Skystriker Però Tergenz lo gioca Quindi Sono un po' Il brutto Anche per lui Engage Un brutto Corpo Il Colosso Lo è Però Non più di tanto Il Colosso Si può Anche sostituire In qualche modo Ho più spazio In extra Adesso Per fare Sincro Xyz Che possono Da più fastidio Però Colosso Serviva molto Di cicliare robe A fare titano Adesso Non serviva l'altro Fortunatamente Non hanno colpito Il main deck Falco Rugito Matrice Meno male Vabbè Ragazzi Questa è la mia Reaction Alla palest Un po' Riposa in pace Un po' In lutto Un po' In tutto E nienza Ci vediamo domani Nelle 15 Con un nuovo video E arriverà A presto La deck profile Del Colosso Del Colosso Scusate Arriverà La deck profile Il Thunder Dragon Aggiornato Dal 21 Farò L'ultimo torreio Domani Il 18 Con Colosso E poi Dirò Addio Va bene Ragazzi Questa È arrivata La palest Aspettiamo Con ansia La prossima Perché Questa È troppo Esagerata Va bene Attirato Il 19 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 Grazie a tutti.